Buongiorno a tutti, sono Sergio Bassoli dell'area delle politiche internazionali della CGL. Seguo i rapporti con i sindacati dell'America da molti anni ormai e vorrei innanzitutto scusarmi per non poter essere presente alla vostra assemblea, all'assemblea dell'associazione italiana Italia-Cuba, l'associazione di amicizia con Cuba. Purtroppo gli impegni per la manifestazione del 5 novembre si tengono tutti quanti a Roma. Detto questo ci teniamo come CGL a fare un saluto, anche fare gli auguri per un'assemblea che come tutte le assemblee che riguardano la solidarietà internazionale, in particolare con Cuba, che mi sembra che siano appunto quattro anni dall'ultima assemblea realizzata dall'associazione, è importante segnalare appunto, anche dare il nostro contributo a un'associazione che da tanti anni mantiene viva la solidarietà e l'impegno italiano della società civile italiana a favore del popolo cubano. Non lo devo dire a voi, ma il popolo cubano e Cuba vive appunto da oltre 60 anni, vive una politica aggressiva e completamente ingiusta e assurda da parte degli Stati Uniti d'America. Il bloccheo appunto è un qualcosa che non ha uguali nella società moderna, è qualcosa che è talmente fuori dalla qualsiasi logica, appunto non c'è più. Abbiamo ormai superato da anni la guerra fredda e che si siamo tornati dentro a una guerra calda, diciamo così, in Europa, a queste logiche di egemonie territoriali da parte degli Stati Uniti sul subcontinente latino-americano e subito appunto alla regione dei Caraibi, un qualcosa che non ha più ragione di esistere. Non lo aveva prima, ma non lo ha neppure oggi. Noi siamo, credo che appunto questa, cioè la nostra solidarietà, cioè quello che fate voi, ma quello che facciamo anche noi come sindacato con la Centrale de Trabajadores de Cuba, la 7-6, è importante ma molto probabilmente non è sufficiente e dovremmo riuscire ad avere un'azione più decisa, più forte nei confronti delle istituzioni tanto italiane come anche soprattutto europee che continuano ad avere un comportamento, a dir poco, ambivo nei confronti di Cuba. Occorre, credo che la priorità nella nostra azione sia quella di far sì che l'embargo venga tolto e che si permetta al popolo cubano di esercitare quello che è appunto il diritto fondamentale di tutti i popoli, cioè il diritto di autodeterminazione. Deve essere il popolo cubano a decidere le riforme, a decidere le modalità e come deve appunto essere organizzato lo Stato a Cuba. Il prolungarsi di questo Stato d'assedio economico, finanziario, politico è qualcosa che va condannato appunto senza sé e senza va. Noi con la 7-6 di Cuba abbiamo un rapporto che da molti anni si collabora, ma nell'ultimo periodo credo che abbiamo consolidato non solo un rapporto formale, ma un rapporto di collaborazione nel merito dell'agenda sindacale. Il sindacato cubano ci chiede una collaborazione in questa fase appunto di riforme, soprattutto sociali e economiche, che le autorità cubane hanno avviato ormai da anni e noi siamo ben lieti di poter condividere le esperienze del sindacalismo italiano, sindacalismo confederale italiano con i compagni cubani, in particolare tutto ciò che ha a che vedere con i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, i meccanismi di sindacalizzazione nel settore privato, nell'economia del movimento recuperativo che appunto a Cuba si sta affermando. E su questo abbiamo già definito dei momenti di formazione e questo avrà anche ulteriori momenti di scambio su quelle che sono le politiche di sviluppo sostenibile, il tema della sostenibilità intesa appunto come sviluppo di quella che è l'agenda 20 e 30 delle Nazioni Unite, un tema che ci coinvolge tutti quanti e su questo appunto pensiamo che sia importante operare insieme tanto con il sindacato cubano come con altri importanti sindacati del subcontinente americano, in particolare con i sindacati del Brasile, dell'Argentina, del Cile, della Colombia e del Messico, appunto abbiamo rapporti continui oltre al tema della democrazia e dei diritti del lavoro. si parla molto appunto di costruire una società giusta, una società che lotti contro le disuguaglianze ma soprattutto guardi al futuro, quindi l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e l'accesso ai diritti umani, ai diritti del lavoro sono diciamo così i punti di riferimento della nostra azione e collaborazione con i sindacati in America Latina. Mi fermo qua, veramente è un peccato non poter essere con voi a condividere questo momento ma ecco facciamo a nome della CGL tantissimi auguri di buon lavoro per l'Assemblea e speriamo di, anzi siamo certi che continueremo a collaborare anche grazie a Marco Papacci proprio per il, diciamo così, la pazienza a volte anche di aspettare i nostri tempi che non sono i tempi, diciamo così, a volte dell'associazionismo ma noi ci siamo e continueremo appunto a sostenere e a collaborare tanto con l'associazione come con il popolo cubano che tra l'altro voglio anche in questo momento ringraziare e ringraziare per il grande aiuto e la grande prova di solidarietà che ci hanno dato nel periodo della pandemia e appunto noi lo scorso anno abbiamo dato il nostro piccolo contributo portando aiuti al sistema sanitario cubano ma il gesto di solidarietà e il grande cuore che ci hanno portato e dimostrato il popolo cubano beh, quello non lo scorderemo mai. Tantissimi auguri, allora di buon lavoro e arrivederci a presto, ok?